ben ritrovati a filo rosso nero qui sul canale youtube di radio rosso nera insieme a carlo pelegatti ciao carlo si buona buonasera a tutti carlo purtroppo ci ritroviamo dopo una brutta serata del milan che perde a monza 4 a 2 e tornano tanti fantasmi ma si adesso qualcuno mi aveva già chiesto oggi ma qual è il vero milan quello col reno quello con il con il monza beh innanzitutto direi che è posta male la domanda è quello contro il monza o quello che nelle ultime 10 9 partite ne ha vinte 7 pareggiate due perché non è che il re ne sia stato un'isola felice è stato un bel periodo lungo e quindi cominciamo a porre le domande come si deve non non ho trovato grandi differenze secondo me con le partite corre nel napoli soprattutto l'inizio perché anche corre nel col napoli poi la grande prodezza del della teao teo e leao o i tre gol venuti dopo belle azioni contro il ren ci hanno fatto dimenticare anche quei 20 25 minuti iniziali dove abbiamo rivisto il milan di monza molto lento molto macchinoso però poi ci sono stati flash che ci hanno permesso di vincere le partite quindi perché è un milan lento macchinoso secondo me non è solo da condannare ad li che purtroppo ieri ha giocato la peggior partita da quando è al milan sei passaggi sei passaggi sbagliati o ben a ser che non è ancora al massimo della condizione ma anche il movimento delle punte sia nelle partite in cui giocano i titolari sia ieri perché il movimento delle punte non permette le verticalizzazioni degli dei giocatori centrocampisti visto che girù tende a venire incontro al pallone leao che avrebbe la possibilità di dettare il passaggio su otto volte viene otto volte verso teo verso il centrocampo invece di scattare pulisi c'è già un po diverso quindi è un po in questo momento un milan che un po lento a livello di costruzione ma non è solo figlio dei centrocampisti no poi sai ovviamente critiche alla parte offensiva ma soprattutto quello che viene più criticato ma ti direi in questa stagione sono i tanti gol subiti perché poi ieri sera ci sono stati degli errori dei singoli evidenti però hai sempre l'impressione di poter subire gol non ti dico da qualsiasi avversario però comunque è molto frequente purtroppo è un centrocampo che non filtra tantissimo in questo senso con chi era e gabbia sembrava aver trovato un po la soluzione non nelle ultime partite almeno a questo problema ieri è stato un errore schierare ciao benissimo e possiamo dirlo si vede no allora che ciao non stia bene ancora o perlomeno non sia al massimo della condizione deve sorprendere solo gli stolti perché gli stolti non si rendono conto che un giocatore che per diciamo due o tre mesi non ha potuto allenarsi ecco perché stefano pioli avrebbe voluto un avrebbe voluto un difensore non perché così voleva un ebulimico perché sapeva come anch'io avevo timidamente supposto che quando un giocatore come ciao sarà pronto a livello numerico tomori e e kalulu saranno pronti a livello numerico ai primi di marzo ma dire non ci servono perché tanto rientrano gli altri è una cosa sinceramente sorprendente e inspiegabile per gente che ovviamente eh sono dirigenti e sono nelle management del calcio perché non ci vuole un fenomeno un giocatore che rientra dopo due o tre mesi per essere in piena condizione ha bisogno di almeno un altro mese tra allenamenti spezzone di partite come l'altro giorno giustamente a ciao è stato dato contro il ren quindi ecco perché pioli voleva un difensore poi che sia stato sbagliato metterlo simici non c'era si poteva mettere teo centrale se non si voleva chi era però questo è facile dirlo ma poi sai il difensore credo che sia uno dei ruoli in cui se non sei in forma forse subisci di più no perché non ti dico che l'attaccante lo noti meno però ciao ieri ciao non era un cavolo da corsa è come se il mio allenatore mi dicesse dai vieni a chantilly corri il tuo cavallo e all'inizio della retta vedo che il fantino che mentre gli altri sono tutti con le mani così incomincia a spingere e tu dici scusa ma hai fatto venire qui ma il cavallo non è la corsa perché se dopo 1200 metri in una corsa di 1800 tutti gli altri sono ancora in mano prima dello sforzo finale e io devo già spingere vuol dirmi che il mio cavallo non è ancora non è in condizione e però è l'allenatore che in questo caso mi fa un po' arrabbiare parlo del mio allenatore del cavallo non di pioli perché dice ma tu scusa ma gli allenamenti non li hai fatti avrei fatto di delle corse uno contro l'altro in allenamento per capire quindi questa cosa io oggi oggi forse sono stato un po' tranchant un po' anche perché sono esaurito per fortuna a livello calcistico almeno spero perché ho detto oggi sono sollevato perché ho capito tutto io voi lo sapete mi conoscete divergo su questo argomento volevo aspettare prima di buttare a mare pioli ancora al fine di campionato per vedere eccetera ma se dopo un allenatore dopo l'allenatore che un allenatore ti porta a sfiorare il secondo posto si posiziona in una buona posizione di classifica per quello che riguarda questo che deve essere per noi una cosa naturale andare in champions non una conquista una cosa naturale al primo incominciano ancora tutta la valanga di legittime legittime critiche quello che avrei già supponevo quindi è giusto che a fine anno ma lo dico con amore nei confronti di pioli non si può continuare così perché anche se vincesse l'europa league e il campionato che mi sembra un filino difficile il campionato è chiaro che poi al primo infortunio di metà agosto è il primo pareggio col sassuolo ai primi di settembre torniamo qua è insopportabile continuare una situazione del genere io mi auguro che lui trovi un'altra squadra e possa esprimere le sue capacità in un'altra squadra perché così non si può continuare a livello ambientale e anche magari tecnico perché scusa se parlo troppo anche il discorso della gestione della doppia manifestazione è ieri ieri non è stato perfetto quindi questo può essere magari una sua lacuna non lo so ma carlo a proposito di di questo oggi già se ne se ne parlava ne abbiamo parlato in trasmissione alcuni tifosi ci hanno chiesto ma come ti aspetti che gestirà renne in trasferta e poi atalanta san siro a livello di formazione non lo so non lo so il discorso è questo lui può anche gestire ma se i ciukvueze se i ciukvueze e i se i ciukvueze e gli okafor magari messi uno per volta va bene ma messi insieme non va bene chiaro che poi se ci si mette non è colpa di pioli se jovic commette quella quel gesto gesto che non avrebbe fatto male a un bambino dell'asilo però non conta l'effetto suizzo ma conta il gesto credo beatrice e si non doveva con non doveva commetterlo anche se ripeto non diciamo cosa è successo cioè sembrava colpito dalla tarantola il gesto però è giusto condannarlo anche se condanniamo anche il doppio triplo salto mortale in per terra dell'avversario però è giusto quindi mandiamolo via e perché qualche giocatore oggi diceva un collega che se stavamo in dieci vincevamo lo stesso ma guarda me ha fatto riflettere più che altro sai cosa che tu riesci a pareggiarla in dieci con fatica è una cosa insopportabile e poi non riesci neanche non mancava tanto alla fine della gara non riesce a tenere quel 2 a 2 pioli poi ha detto che la squadra si è fatta prendere dalla voglia di vincere la per carità però sei in dieci ma perché ci siamo sempre lì siamo sempre lì beatrice c'è uno che capisce in campo che ferma che comanda che rallenta che accelera non può essere non è però anche lui noi giochiamo con le cuffie come te abbiamo tutte le cuffie allenatore fermarsi stare dietro è insomma anche quello una nostra cioè se fosse stato chiar avrebbe detto ragazzi dietro è però non credo che sia stato pioli tutti avanti chiaro che lui aveva tolto un difensore mettendo musa perché dovevamo pareggiare e in quel momento gli serve qualcuno che sappia leggere le partite durano tante partite purtroppo purtroppo quel 2 a 2 io speravo si riuscisse a tenere nonostante per carità e 2 a 2 a monza non è chi era da festeggiare va bene ma non era perdere non era bene lo so tra l'altro bravo se nelle ultime dieci partite nessun pareggi 3 e nei pareggi allora prendevamo la scusa beatrice sì ma lo sforzo dopo la coppa è un conto è possiamo dire la stessa cosa ma un conto è dirlo da squadra che pareggia e recupera in dieci da due io avrei fatto il titolo grande cuore milan capito dimenticando il primo eri in dieci dopo l'europa league eccetera però è chiaro che terminare con quattro gol subiti fa male se no andremo in giro con le bandiere per milano per l'impresa ancora dei ragazzi che in dieci da 0 a 2 a 2 2 e invece no carlo io ti saluto ti ringrazio ti do appuntamento a questo punto mercoledì il giorno prima di ren milan e faremo il collegamento sperando che tutti i satelliti del mondo funzionino a da ren grazie carlo un abbraccio grazie mille grazie mille grazie mille